Chillon è un progetto di ricerca europeo il cui obiettivo è lo sviluppo e l'integrazione di nuove tecnologie per migliorare la tracciabilità e aumentare la garanzia di qualità nella catena di distribuzione dei cibi freschi e sorgelati. L'attività di Act Value si è concentrata nello sviluppo di taghi nomativi e lettori RFID con due obiettivi principali. Monitorare la temperatura di ogni pallet durante le fasi di carico scarico e trasporto, allertando in tempo reale in caso il valore vada fuori soglia e tracciare la freschezza residua, la cosiddetta shelf life del singolo prodotto in base alla sua temperatura nel tempo. Nel primo caso i tag sono attivi con sensori di temperatura, tecnologia ZigBee per permettere la creazione di un mesh network e un unico controllore configurabile on the fly. Il relativo lettore RFID implementa un protocollo di comunicazione originale e si interfaccia con un dispositivo che gestisce la trasmissione GPRS bidirezionale associata alle coordinate GPS della posizione del carico. Nel secondo caso i tag sono passivi e integrano un indicatore della temperatura tarato per ogni singola tipologia di prodotto. Il tag è stato sviluppato da Act Value per interfacciare il sensore, leggerne il valore, trasformarlo in un dato digitale e renderlo disponibile al lettore RFID stesso. Il monitoraggio quindi è stato effettuato sia sul singolo prodotto o cassetta sia sul pallet.